salve in questa video guida vorrei mostrarvi come utilizzare le curve per mezzo dei livelli di regolazione per applicare alcune tecniche di fotoritocco la nostra foto di partenza è questo ritratto un po slavato il bilanciamento del bianco è corretto ma per rendere più accattivante la foto useremo un livello curve per scurirla e aggiungere poi qualche effetto cromatico dopodiché andremo utilizzare un secondo livello di regolazione per aumentare un po il contrasto ma solo in una parte dell'immagine quindi modificheremo la maschera a esso collegata per applicare il livello di regolazione facciamo clic sull'apposito pulsante che si trova in fondo al pannello livelli e dal menu scegliamo la voce che ci interessa in questo caso curve a volte può capitare che il pannello che si apre risulti troppo piccolo basta aumentarne le dimensioni per lavorare più comodamente clicchiamo sul punto centrale della diagonale e trasciniamo la destra in basso oppure a sinistra in alto per vedere come si modifica l'immagine notiamo che trascinando il punto centrale in basso la foto diventa più scura mentre spostandolo verso l'alto si schiarisce questo succede perché nella casella sopra il grafico è selezionato il canale composito rgb e le variazioni delle curve riguardano tutti i canali di colore cambiando così il contrasto e la luminosità come abbiamo detto all'inizio la foto è leggermente troppo chiara quindi trasciniamo verso il basso il punto centrale della diagonale per scurire tutta l'immagine se accidentalmente aggiungessimo alla curva un punto che non ci serve e altera il risultato è sufficiente trascinarlo fuori dal grafico per eliminarlo senza che vi siano conseguenze per la foto abbiamo sistemato la luminosità della foto ma nonostante questo l'immagine risulta un po debole soprattutto a livello dei colori per risolvere questo problema possiamo creare degli effetti cromatici utilizzando sempre il livello di regolazione curve andiamo nella casella dei canali e questa volta al posto di rgb selezioniamo il canale dei blu come abbiamo visto nel menu sono presenti solo tre canali di colore il rosso il verde il blu ma se noi trasciniamo verso il basso il punto centrale della diagonale dei blu nell'immagine vediamo aumentare i gialli al contrario se lo portiamo in alto aumentano i blu la stessa cosa accade con i canali del rosso e del verde praticamente in ogni canale abbiamo due colori blu e giallo rosso e ciano verde e magenta bene ora torniamo al canale dei blu questo è un metodo veramente facile per correggere il bilanciamento del bianco oppure per raggiungere degli effetti di colore in questo caso noi vogliamo aggiungere appunto un effetto cromatico quello che dobbiamo fare è cliccare nell'angolo inferiore sinistro del grafico e trascinare verso l'alto le estremità della diagonale fino a raggiungere il valore 20 nella casella di output in questo modo aggiungiamo del blu alle ombre le ombre tradizionalmente sono più fredde delle luci e quello che stiamo facendo qui non è molto distante della realtà e crea un effetto a cui i nostri occhi sono già preparati ora andiamo a lavorare sulle luci alte quindi spostiamoci nell'angolo superiore del grafico e facciamo clic sull'estremità superiore della diagonale spostiamo questo punto a sinistra per aggiungere alle luci alte del blu oppure in basso per aggiungere del giallo lo stesso accade con le ombre quindi se trasciniamo il punto inferiore a destra aumentiamo in esse il giallo mentre se lo spostiamo in alto aumentiamo il blu quindi da una parte rendiamo in più fredde le ombre e dall'altra scaldiamo un po le luci alte usiamo il pulsante con l'occhio presente nel pannello curve per renderci conto che abbiamo aggiunto veramente poco a questa foto giusto un tocco per darle un look un po retro nulla di più ma qualcosa che rende più interessante questa foto rispetto alla colorazione originale ora vogliamo rendere un po più fredda la foto quindi selezioniamo dal canale rgb dalla casella rgb il canale dei rossi e trasciniamo leggermente in basso la diagonale per aggiungere all'immagine un tocco di ciano non esageriamo però bisogna fare delle piccole regolazioni fino quando siamo soddisfatti questa non è una scienza esatta ci si basa su quello che si vede e se ci piace o meno scaldando le luci alte abbiamo creato un effetto sulla pelle che però è stato neutralizzato dal successivo intervento per rendere più fredda la foto se usiamo il pulsante della visibilità del pannello proprietà possiamo vedere che abbiamo neutralizzato quella leggera addominante nella foto che ci ha fatto perdere un po di toni sulla pelle chiudiamo il pannello proprietà perché il prossimo passo sarà aggiungere un nuovo livello curve per agire sul contrasto in questo caso lavoreremo sul canale composito rgb quindi facciamo clic sul solito pulsante e scegliamo la voce curve iniziamo trascinando un po in basso la curva e poi modifichiamole per darle una leggera forma a s avendo lasciato il punto centrale sulla curva non si riesce a lavorare bene quindi facciamoci clic sopra e trasciniamolo fuori dal grafico per eliminarlo ora se diamo la curva una forma s andremo ad aumentare il contrasto in modo deciso rendiamo invisibile il livello di regolazione per renderci conto di quanto sia forte il contrasto chiudiamo allora il pannello proprietà e andiamo ad abbassare l'opacità del secondo livello curve per modulare il contrasto ecco portiamo il cursore attorno al 50 per cento così da ottenere l'effetto desiderato ciò che ci interessa ora aumentare il contrasto solo nell'area relativa al viso e ai capelli della modella ingrandiamo la foto e usiamo lo strumento mano per spostarci al suo interno quindi usiamo il pulsante della visibilità per vedere che il contrasto interessa tutta l'immagine andiamo nel pannello livelli e vediamo che il livello curve ha la maschera attiva ma prima di lavorarci su dobbiamo fare una cosa il livello 2 si trova sopra il livello 1 che abbiamo usato per creare l'effetto cromatico e ha anche un effetto su quest'ultimo modificando anche se lievemente il suo colore per evitare ciò trasciniamo in basso il livello curve 2 in modo che vada a finire subito sopra il livello di sfondo bene con la maschera del livello 2 ancora attiva premiamo i tasti ctrl più i per invertirla l'effetto del livello scompare perché ora la maschera è diventata nera ora premiamo il tasto d per impostare i colori predefiniti del primo piano e dello sfondo e se il nero è il colore di primo piano premiamo il tasto x per mettere al suo posto il bianco prendiamo lo strumento pennello e scegliamo una punta tonda morbida dal selettore pennelli controlliamo qui la sua durezza e le dimensioni quindi se necessario usiamo il tasto A accentata per aumentare il diametro della punta e passiamo il pennello sull'area da mascherare passiamo il pennello sui capelli sul viso della modella quindi rimpiccioliamo la punta con il tasto O accentata e usiamolo per le ciocche di capelli più sottili ricordiamoci che se dovessimo fare degli errori nella mascheratura è sufficiente cambiare il colore di primo piano usando il tasto X e passare il pennello sulle aree che abbiamo mascherato per sbaglio bene possiamo controllare meglio la maschera che abbiamo creato facendo clic sulla sua miniatura mentre teniamo premuto il tasto alt sullo schermo vediamo che all'interno della maschera sono presenti delle zone scoperte che possiamo così riempire facilmente rendendola perfetta una volta finito rifacciamo clic sulla miniatura della maschera tenendo premuto sempre il tasto alt rendiamo invisibile momentaneamente il livello curve 2 per valutare le ultime modifiche l'aumento localizzato del contrasto è leggero ma sufficiente a mettere in rilievo all'interno della foto il viso che è la parte più importante di un ritratto mentre invece nelle sue altre parti il ritratto risulta più morbido bene abbiamo visto tre modi di utilizzare le curve abbiamo modificato per prima cosa la luminosità poi abbiamo creato un effetto cromatico e infine abbiamo aumentato il contrasto in tutta la foto limitando poi con la maschera questo effetto solo al viso grazie a tutti grazie a tutti